Ciao a tutti ed eccomi qua in Tomodaci Life Vediamo cosa c'è Allora, prima di andare a vedere che cosa c'è di nuovo Ho notato che c'è un cuore E subito, che fortuna Andiamo da Gio Ah, quindi, vabbè, con la mia sosia Quindi sono figlioli Eh, dicelo Va bene Eh dai, è troppo presto Eh dai Diciamo così Per cambiare Questa è la mia sosia Vediamo un po' Mi sa che ha l'eticato la mia sosia Non lo so Eh sì Torniamo indietro Andiamo a vedere Babbo Natale Con la tuta da sci Sì, insomma Uno di nuovi, Babbo Natale No Dici Ah, pure Ha bisogno di 85 Vabbè, ti è Va bene Basta che poi le restituisci Ok Ok, vediamo l'elepicità che sai Ok Eh Cosa ti potremmo dare da mangiare Un'insalata greca Che l'ha gradita E Ma sì Giochiamo insieme Vai Sago Cerchietto con fiocco Avanti, avanti il prossimo Mi sento preparata Mi sento preparata Corona di alloro Vai Avanti, avanti Ah Verretto di lana Copriamo da pesce Fermaglio 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 Sì Verretto di lana Fermaglio Ok, è andata bene Vai L'abbiamo L'avevo detto Ero preparata Ve l'avevo detto Grazie Quello piccolo Una vite E Proseguiamo Nel palazzo Vediamo Che c'è qui Sonic Mart Crei una nuova Ciao Vediamo La tua richiesta Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho La colonna L'oro Come la vedi E la gravita E ti diamo anche Qualcosa da mangiare Di crocchetti di pesce No Non mi sono piaciute Vediamo Allora Del latte Che con le crocchette di pesce Si sposano Che una meraviglia Questo l'ha Gravito Lui fa livello 3 Bene 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 Un arredo Stile asiatico Vai Iniziamo Iniziamo a far salire Di livello Anche i nuovi arrivati No Grazie No Ah si va bene Si dai giochiamo Allora Ho vinto Il primo colpo Grazie Quello grosso Stavolta Uno zaino Bene E poi Andiamo di nuovo Del palazzo Andiamo a cercare Olga Olga Andate attento Che noi vediamo Guardate Com'è bella Vestita da festa Olga Dici Olga Guarda C'è Dele Bella parmigiana Per te Cioè A livello 19 Non ho trovato Nemmeno un super preferito Certo Un buono Per il raffreddore Sacri buoni Mamma mia Eli Vediamo un po' La super furia Di Eli Con chi avrà Le teatro Mamma mia Ah lo vedo Vai Mamma mia Non si può fare niente E' super infuriata Eli Oh Vediamo Katniss La nuova arrivata Sì dai Sei a livello 1 Però Dici Subito Che tenga caldo Vai La felpa Con il cappuccio Rosa Bella Per poco Non facciamo Livello 2 Tieni Guarda Una bella pasta Al pesto Riempiemerci Lo stomaco Katniss Livello 2 Facciamo Un oggetto E Do un bel cellulare Subito Il telefono ci vuole Si può rimanere fuori dal mondo Andiamo E li Filippo Oh Giochiamo con Filippo Vai che da tanto Che non incontriamo Filippo Certo Quiz Pixel Cibo Vai Qui Qui non sono preparata Inserate i gamberetti Uh Che cuffia Che Che fortuna Sette Albergo Vai Mamma mia Che fortuna E vediamo un altro Ah Questo Cucchiaio di legno O cheeseburger No Cucchiaio di legno Ma che ne so Pasta Questa era veramente difficile Filippo però O per Dindri In Dengri Eh Cappero L'ultima Me l'ha fatta difficilissima Ah Cartigiani Cappero e noi Parmigiano di melanzane Per te È un livello 10 Per Filippo Canzone Rap Vai Ah mi mancava Mi manca il 3DS A Filippo Vabbè la prossima volta Allora Dobbiamo trovare il modo Di far far pace A Eli Nami craft Vediamo se riesce Nami Sì Dici Ci fa piacere Certo Se me lo dici te Io ti credo Vai Guarda Un bel pandoro Per te Oh Questa è finito Tutti i cibi di scorta Per poco No per poco Non si fa livello 16 Rimunchi Mamma Natale Aspetta Abdallah Vediamo Anche lui è infuriato Sì sì Ciao Anche Abdallah è infuriatissimo Non si può toccare Dobbiamo trovare il pacere Vichingo Vediamo un po' Vichingo Se può fare te Dal pacere Dici Vichingo Ale Abdallah Dai una mano Cioè Abdallah è vichingo Che va a fare il pacere Ci pensa lui Mamma mia Oh Attenzione Dopo che si sono lanciati Di tutto e di più Forse siamo arrivati A un accord Pace ripristinata Ale Meno male Meno male Grazie Vichingo Meno male Che c'eri te Senti che musichina Bravo 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 Vichingo Sei stato bravissimo Allora te Ora te becchi qualcosa A maniera Sì Tintura A bimbo spray Allora Pandoro Perché c'ho questo Momentaneamente Polento E mangiare Vichingo Bene Ha gradito il Pandoro Bravo Vichingo Bravo Vestito nuovo Vai Tieni Blazer maschile Vediamo Come ti sta Poi con questo cappellino È il suo Proprio uno stile Impeccabile Oserei dire Vai moneta D'argento Per noi Vediamo un po' Nonno Oh anche nonno Uno nuovo Uno dei nuovi arrivati DJ Che cosa desideriamo Così Allora c'ho questa a disposizione Tieni Vediamo se ti piace Allora gradita Livello 2 Allora diamo subito Il telefono Anche a Nonno Così si possano chiamare Tutimi Del palazzo Certo Oh buono per un viaggio Tieni la pasta a testa Scusate E vai Ok allora Abbiamo visto un po' Di richieste del palazzo E Fabio ha leticato Anche lui Mamu Ullala Con la mia sosia Allora Mi fermo un attimo Perché vado a vedere Che cosa c'è Nella piazza Perché non ne avevamo visto Oh c'è L'uniforme da galeotto Nuovi colori Prego Sembra più un pigiama Te lo volevo dire Però va bene Evento Vabbè qui C'è la donazione C'è la nonno Subito Prima fila a donare Non c'è altro Evento al parco Ma questa è nuova L'uniforme da hostess È nuova Compriamola La 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 Ale Continua allora Ad aumentare la mia collezione Guardiamo il notiziario Che ce la siamo dimenticati Letto mobile in vendita Aspetta No Il letto mobile Ma questa è una grande idea Eh sentiamo perché questa secondo me è una grande idea No ma l'idea era fantastica comunque Cioè a parte tutto Ma l'idea è fantasticissima Ottimo Oh Allora Volevo andare a vedere Qui No qui Quanto Album Quanto mi manca Album dei vestiti 380 428 Sempre tanti Eh Non 382 vestiti scoperti Su 428 Mamma mia Mi manca I cibi L'ho finito Poi I cappelli Mamma mia I cappelli non nemmeno tanto 40 18 I colori sono infiniti Mi mancano sempre l'arredamento E due tesori Bene insomma Buon punto per finire la collezione A parte i vestiti Che mi mancano davvero tanti Qua nel centro dell'isola E' il momento di andare Quindi Alla Aiuto Che è dentro la terra Già hanno fatto una buca E' nella terra Chi è Lista degli eventi Il momento di fare i vostri sondaggi Che vi ricordo Hashtag Sondaggio a 2 3 o 4 E scrivete Sondaggio a 2 Di una ragazza A cab Me contro te E contro Eleonora Olivieri E andiamo a vedere subito Questo sondaggio Chi vince Eleonora Proseguiamo E chi lo sa Dipende dai gusti Come sempre Vincenzo The Gamer Sondaggio a 2 3 Scuola media Contro liceo Liceo E vince liceo Ok Proseguiamo Sondaggio a 3 Di Raffaele Sweet Sims Contro Moira Van Tartier Contro Che noia Guarda Andiamo Quale youtuber Vince E vince Il primo Che erano Aiuto Sweet Sims Sì Me l'ero proprio Dimenticata Mi stavo scorrendo Nei sondaggi Sondaggio A 1 2 Ragazzi il numero Dovete scrivere Il sondaggio è di Joelle Frosty È tra Stratussina Pokémon E 4 Ok Tra Stratussina Sì Pokémon Contro Animal Crossing E Tomodachi Life Oh attenzione Non ci voglio credere Sono quasi emozionata E ha vinto Cioè ho vinto io Cioè non ci credo Non credo in i miei occhi Ho vinto E andiamo Aurora Il sondaggio di Aurora Mamma mia Che fortuna ho vinto Dopotanto Cane contro gatto Oh un classico Sondaggio E ho vinto il gatto Sondaggio a 2 Di Angelo Gamer Che è tra Mitomo Contro Tomodachi Life Ecco questa è una bella sfida E Fanno vincere Mitomo No Pensavo facessero vincere Tomodachi Molto simili E vince Mitomo E ricominciamo Nicolas Francesco Sondaggio a 4 No 3 4 Ho detto 4 Perché ho premuto 3 Masterchef Sì Contro Hell's Kitchen In cucina con Mirello E cuoche fiamme Quale programma vincerà? Mi sa che Hell's Kitchen Vedo che si sono proiettati su Hell's Kitchen Assicuramente è che mi piace Sondaggio a 2 Di Ippare Ricominciamo Diani contro Sarà Disney forse Disney contro Pixar Vediamo un po' E vince Disney Subito A ruota Arriva il sondaggio Riccardo Z Tra Nintendo Switch Contro Nintendo 3DS Vediamo E ha vinto Ha vinto Ha vinto Nintendo Switch Ho fatto un collage Tra Nintendo Switch E ha vinto Ottimo Ottimo Bene Vediamo un altro sondaggio Di Un sondaggio a 4 Tra Ok Che noia Versus Madame Archie Versus Metano 07 E verso Charlie Moon Vediamo anche Tra questo youtuber Chi vince Aspetta M Mirella No no Che cucina Mirella Ho perso il cosa Aspetta Che noia Era Oh fermi Fermi S'ho perso Il sondaggio Nel video Non il video Nel coso Aspetta Non me lo so Perso davvero Ma domarci Benissimo Allora ho finito I vostri sondaggi Per oggi Vi invito Se volete Che continui a fare Sondaggi Mettere i sondaggi Con sondaggio A 2 3 O 4 Con i vari Nomi Io Vi ringrazio Per aver visto Il video Fino a qua E spero che vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Mettete un mi piace Commentate Condividete il video Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E io vi mando Un abbraccio virtuale E vi ringrazio Per il sostegno E adesso Ciao Ciao a tutti E ala